Il Frosinone Calcio ha comunicato sulle proprie pagine di aver acquisito ufficialmente le prestazioni sportive del calciatore Mattia Vitale. Il centrocampista classe 97 arriva dalla spalla in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Vitale cresce calcisticamente nella squadra della sua città, il Bologna, per poi approdare nel 2011 nelle giovanili della Juventus. L'11 marzo 2015 ha esordito nella prima squadra bianconera e al contempo debutta in Serie A, giocando gli ultimi dieci minuti della trasferta contro il Parma. Nel 2016 passa in prestito a Lanciano in Serie B. La successiva estate viene nuovamente mandato a titolo temporaneo in Serie B, stavolta nelle file del Cesena, dove colleziona 21 presenze. Dopo un breve passaggio al Venezia, nell'estate 2017 la Juventus lo dirotta ancora in prestito alla SPAL. Neopromessa in Serie A, senza però trovare molto spazio con i bianco-azzurri. Lo scorso gennaio viene ceduto in prestito al Carpi, con cui il successivo 2 aprile trova il suo primo gol in carriera, nella sconfitta per 3-1 sul campo del Benevento. Alla fine però, nonostante le ottime prestazioni, non riesce ad evitare ai suoi la retrocessione. Vitale è un centrocampista dotato di una qualità sopraffina, mancino naturale e sa calciare molto bene con entrambi i piedi. Il classe 97 è il classico regista di centrocampo che può giustare anche come mezzala.